Quella di oggi è la pillola numero 200, sono ben 1200 giorni che registro video e, come ogni 100 pillole, diciamo che leggo questa poesia celebrativa, se così la possiamo chiamare, che ti leggo perché merita sempre. Niente al mondo può sostituire la tenacia. Il talento non può farlo. Non c'è niente di più comune di uomini pieni di talento ma privi di successo. Il genio non può farlo. Il genio incompreso è quasi proverbiale. L'istruzione non può farlo. Il mondo è pieno di derelitti istruiti. La tenacia e la determinazione, invece, sono onnipotenti. Calvin Coolidge. Per cui, se stai lavorando e non stai ancora vedendo i risultati che ti aspettavi, non mollare, continua a perseverare. Se conosci qualcuno che ha già raggiunto i risultati a cui tu ambisci, contattalo, chiedigli un aiuto perché ti saprà dire se effettivamente c'è qualcosa che puoi fare meglio o se c'è qualche errore che stai commettendo che ti, diciamo, frena rispetto a raggiungere il tuo obiettivo. Ma in molti casi è semplicemente questione di tempo, questione di continuare a fare quello che stiamo facendo e non mollare mai. Quindi, ricorda che nulla al mondo può sostituire la tenacia. Con questo è tutto. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ho appena fatto 1200 diviso 365 e fa 3,28 ragazzi. Sono 3,28 anni che sto registrando queste pillole. È incredibile, mi sembra di aver iniziato da ieri e invece da quando ho iniziato questa avventura. Davvero per me è cambiato tutto. Quindi consiglio a chiunque davvero che ha iniziato a fare qualcosa di nuovo di non mollare dopo poco perché i risultati effettivamente con il tempo arriveranno. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!